Ci siamo venuti a conoscenza di CREACTIVE e in qualche modo abbiamo deciso di partecipare. È stato veramente bello partecipare anche perché ci siamo connessi con altre realtà produttive, abbiamo visto altri punti di vista e in questo in qualche modo è stato utile, proprio perché molto spesso, soprattutto per realtà che si trovano all'interno del meridione o comunque nel sud, è molto più complicato fare rete e quindi di conseguenza è stata un'esperienza sicuramente molto preziosa per me. Il progetto in generale si chiama appunto AMARE, proprio perché partivamo da un concetto legato al simposio di Platone in cui Platone per la prima volta parlava di androginia e parlava appunto nel simposio di amore. Questo amore noi in questo progetto abbiamo deciso di inserirlo nell'amore verso il mare. Essendo un isolano, essendo siciliano, in qualche modo una delle cose che molto spesso viene distrattata è appunto il mare. Tramite il filo di Econil, che è un filo che viene dai rifiuti marini, questo filo, che poi diventa un tessuto, ci darà la possibilità di realizzare una capsule collection di alcuni dei nostri pezzi più iconici, aumentare la nostra sostenibilità, che non diventa solo sostenibilità sociale ma anche una sostenibilità legata al filo, al filato, al metodo di produzione. Oggi è impensabile pensare a qualcosa che non abbia in sé intrisa la sostenibilità. Siamo tutti irresponsabili, anche perché io vivo il design come una responsabilità sociale, come qualcosa che ha a che fare col pubblico, come qualcosa di politico. E quindi di conseguenza questo progetto darà all'azienda e a me in prima persona la possibilità a di cimentarmi appunto con qualcosa che non conosco perché questo materiale ancora non lo conosco e quindi anche dal punto di vista del sostegno finanziario è molto bello perché permette alla nostra azienda di fare un investimento che verosimilmente non avremmo fatto magari in questo momento e B anche l'organizzazione di come è stanziato il finanziamento ti dà la possibilità di avere anche tu una visione lucida su quello che stai spendendo.